Ci siamo quasi, siamo entrati nell'ultima settimana, quella che ci porterà una data molto importante, la data in cui si terrà il referendum per l'autonomia di Regione Lombardia. Il 22 di ottobre, dalle 7 alle 23, potremmo avere l'opportunità di votare per l'autonomia della nostra Regione. Bisognerà recarsi semplicemente nei seggi dove si vota normalmente. E attraverso un metodo innovativo, ma non spaventiamoci, semplicissimo, schiacciando il sì sul dispositivo elettronico, potremmo votare e dare più poteri alla nostra Regione. È importantissimo andare a votare e convincere più indecisi in questa settimana. Solo in questo modo il nostro Presidente della Regione, Roberto Maroni, potrà andare a negoziare verso il Governo Centrale più autonomia per la nostra Regione, che in concreto vuol dire più soldi, maggiori risorse per migliorare una Regione già dove si sta bene. Però abbiamo ancora bisogno di più necessità e di più risorse. È importante, domenica 22 ottobre andiamo tutti a votare e votiamo sì.